Un esposto alla Corte dei Conti per denunciare, anche attraverso documentazione fotografica legata, lo stato di degrado in cui versa lo stabile e le mancate risposte in merito da parte di Comune ed Ater. È quella presentata da alcuni abitanti di uno dei palazzi di via Francesco de Santis, quello che si trova al Civico 13. A spingere gli inquilini a questo gesto forte, l'invio da parte di Palazzo del Pincio delle lettere con le quali si concedeva la possibilità di riscattare le proprie abitazioni a prezzi vantaggiosi nell'ambito del piano di vendita degli alloggi popolari emesso a luglio dal Comune di Civitavecchia per 117 appartamenti. Una beffa, secondo i residenti, oltre al danno di abitare in un palazzo a dir poco fatiscente con un'infinità di problematiche da anni segnalate e mai risolte. Nell'esposto si ricapitola la storia della palazzina, costruita nel dopoguerra per i profughi e dove attualmente ci sono i profughi di guerra ancora in vita, i familiari diretti e aventi diritto e al momento gestita da Ater su indicazione del Comune. Stando a quanto scritto dai residenti del palazzo, già nel 2007 era stata concessa la possibilità di riscattare le case, salvo poi il ritiro della proposta da parte del Comune. Ritiro che, secondo i firmatari dell'esposto, non è avvenuto per gli abitanti delle altre 20 e oltre palazzine analoghe che costituiscono il quartiere De Santis. Nella lettera indirizzata alla Corte dei Conti, gli abitanti parlano dell'invio da parte loro, a partire dal 2019, di una serie di e-mail, PEC e sollecitazioni sia a Palazzo del Pincio sia all'Ater per richiedere diversi e urgenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Tra i problemi più gravi da risolvere, la muffa sulle pareti interne degli appartamenti derivati da crepe nei muri esterni, fondamenta umide che permettono la proliferazione di scarafaggi, la presenza di ethernet e vetri e porte del terrazzo diverte dal tempo e distrutte dalla ruggine. Non solo, perché nella lettera si parla anche d'altro. Quando gli inquilini si sono resi conto di come gli stabili adiacenti, composti per la maggioranza da proprietari delle abitazioni e non, come nel loro caso, da affittuali, stavano accedendo al bonus 110 per la completa riqualificazione degli edifici, avevano di nuovo scritto a Comune ed Ater per chiedere di poter usufruire dei vantaggi del Governo, ormai inaccessibili. Da qui le domande, perché nessuno ci risponde e non possiamo neanche nominare un nostro amministratore? Perché nessuno ci ascolta e non procede con nessuno degli interventi richiesti? E ancora, perché il contratto Comune-Ater è stato interrotto nel periodo dell'attuazione del bonus 110 e solo alla fine dell'incentivo del Governo è arrivata la lettera di vendita degli appartamenti da parte del Comune? Proprio in merito al 110, gli inquilini del palazzo di Viare Santis 13 raccontano l'ulteriore beffa. L'area intorno allo stabile, che i cittadini provano con impegno a tenere pulita curando piante e giardini comuni, è stata utilizzata come area per il deposito di materiali per gli interventi del 110 sugli altri palazzi, con materiale di scarto lasciato abbandonato. Anche da qui la decisione di denunciare quanto sta avvenendo.